Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio, un altro di quei video veloci, semplici, abbraccio che sto facendo in queste giornate estive di vacanza per molti di voi perché ho la fortuna e la possibilità di avere in mano due kit molto diversi tra loro ma molto simili il primo kit è questo qui che ho composto che è in sostanza la Fuji X-E4 di cui ti ho già accennato in un video precedente alla quale ho dotato il Fujinon 1024 F4, l'ultima versione, quella impermeabilizzata, proprio quella più bella anche dal punto di vista ottico quella che ha una resa migliore, ok questo è il primo kit e andrò a confrontarlo così molto veloce con questo kit che è la Canon EOS R5 con l'RF1435 F4, un altro bel vetro sono come ti ho detto due kit molto diversi soprattutto dal punto di vista dei prezzi ma molto simili per quanto riguarda la tipologia di foto che puoi fare perché sulla Fuji con il fattore di moltiplicazione 1.5 con il 1024 va in sostanza a eguagliare lo stesso angolo di campo che hai con il full frame Canon EOS R5 con il 1435 e dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare come l'hai capito dal titolo sulla questione dei pesi ed ingombri perché tante volte molti di voi saltano da un corredo ad un altro, da un bread ad un altro magari evocando la questione della portabilità, della leggerezza, tutto quello che ci va dietro quando magari cerchiamo delle mirrorless differenti un po' più piccole a PSC ma nella realtà adesso guardiamoci bene negli occhi io ce li ho in mano e quindi ho un feedback molto più preciso, pratico ma provo a trasmettertelo guardali, guarda questi due kit come dimensioni secondo te ci sono poi così tante differenze da questo punto di vista secondo te? allora io ce li ho in mano e ti dico molto schiettamente che dove io ci faccio star questa qui onestamente ci sta anche questa cioè gli ingombri ci sono a vantaggio della Fuji ovviamente ma non sono poi così enormi come magari qualcuno può pensare quindi questa è una prima cosa sulla quale bisogna ragionare io dico ok giro con questa, sì è un po' più piccolina ma alla fine non è tanto più piccola di questa se nello zaino devo farci star questa, trovare il posto per questa riesco a trovarcelo anche per questa qui magari ecco, se andiamo a valutare la questione pesi le cose possono essere viste anche in un modo differente dal punto di vista del ragionamento sulla scelta dell'attrezzatura perché questo kit, quello con la Fuji X-E4 pesa 800 grammi questa qui pesa 1325 grammi differenza 525 grammi, mezzo chilo quant'è mezzo chilo? Una bottiglietta da mezzo d'acqua? quello lì è mezzo chilo di differenza dal punto di vista del peso per capirci e dopo devi considerare che qui sto utilizzando una X-E4 che diciamocelo non è un kit ideale a utilizzare in questo modo la sua lente ideale per questo tipo di camera è questo qui il 27 2.8 quello di kit perché è veramente piccolo è una macchina portatile quando vai a metterci obiettivi di questo tipo magari ci sta meglio una X-T4 una X-T3 dove le dimensioni e anche pesi sono un po' maggiori vado ad occupare un po' più di spazio e anche lì allora si avvicina ancora di più la differenza nella questione di ingombri con una full frame come questa Canon R5 che dopo ci metto la R7 insomma cambiano ancora di più ci sono delle differenze maggiori la R5 con il 14 35 e mezzo chilo tornando ai pesi è tanto è una differenza enorme allora se tu devi fare delle scalate in montagna sì è una differenza enorme mezzo chilo fa la differenza però per la fotografia diciamo di tutti i giorni quella che fai magari per fare un'escursione semplice dove prendi l'auto vai su un posto e fotografi utilizzando i treppiedi eccetera bene mezzo chilo non sono nulla se poi sono viaggi di una giornata ancora meglio questa differenza di mezzo chilo non ci sta cioè in mezzo chilo lo recuperi veramente in modo molto molto facile e quindi continuo a ripetere quando noi andiamo a parlare di dimensioni secondo me e pesi dobbiamo fare dei ragionamenti un po' più approfonditi prima di fare il salto cambio corredi eccetera magari hai un sistema Canon ti trovi scomodo perché lo senti pesante lo senti ingombrante e pensi magari che passando un sistema Fuji di questo tipo vai a migliorare magari mettendoci una X-T3 una X-T4 vai a migliorare di molto la situazione secondo me le cose non stanno così però capisco che può essere anche una cosa soggettiva io dal punto di vista soggettivo credo che dal mio punto di vista non ci sia poi questa grande differenza ripeto la differenza grande ce l'ho se vado ad utilizzare una X-T4 e voglio andare ad utilizzarla per fare un certo tipo di fotografia dove giro con un'ottica molto compatta allora sì lì c'è una differenza perché la Fuji X-T4 con obiettivo pancake fa la differenza rispetto a girare con un corpo full frame che per quanto ci vai a mettere un'ottica compatta penso all'RF 16mm STM per quanto io vada a metterlo qui insomma ti va ad ingombrare arriva come questo ingombro per capirci a questa larghezza qui perché sborda un pochino è meno portatile sicuramente di una X-T4 queste delle considerazioni così al volo fatte oggi in velocità questa giornata caldissima fa un caldo boia dentro qui ho chiuso tutto ho acceso il condizionatore ma non è sufficiente vai qui sotto nei commenti fammi sapere il tuo punto di vista dimmi invece come vedi tu le cose se magari hai fatto anche tu questi cambi queste valutazioni hai tratto delle conclusioni differenti insomma chiacchieriamo un po' assieme per questo è tutto ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video